Un punto ma quanta fatica, il Lecchieti impatta 1-1 contro la Jesina e l'Angelini grazie ad un lampo di esposito nel finale quando gli ospiti stavano già assaporando il gusto della vittoria esterna. Un po' come a Termoni nella prima di campionato, Ronci deve fare di necessità virtù. In attacco senza vano squalificato e con Arcamone disponibile solo per la panchina, manca il riferimento centrale. Ed allora via libera alla tridente, tutta fantasia Corvino-Esposito-Orlando, ma la retroguardia di casa non soffrirà più di tanto. Dirige un attento Politi di Salerno, negli ospiti lo spauracchio Trudo parte dalla panchina per un problema muscolare. La gara si accende alla minuto 15, Mattia Cardinali spara un missile da calcio piazzato, prima il palo, poi i riflessi di schina, poi la traversa, evitano il vantaggio ospite. Risponde Esposito che pesca Corvino che calcia in corsa in area di rigore, ottiene il calcio d'angolo. Il Chieti per provare a sfondare il muro della Jesina deve ricorrere a tutta la sua fantasia. In successione le giocate di Esposito-Orlando non si concretizzano e quando la palla sta per accomodarsi in rete al minuto 41, ecco il guantone di Tavoni che dice no. Poi in pieno recupero la doccia fredda. Maxim sbaglia la scalatura difensiva, Carnevale ringrazia, firma l'1-0. Nella ripresa il Chieti non riesce a spingere con determinazione poco o nulla da segnalare, la mostra giusta è quella del tecnico Ronci che capisce che solo con una spizzata o una seconda palla si può fare qualcosa di interessante. Dentro allora Arcamone Lorenzoni e da una giocata del numero 20 che contrasta in uscita Tavoni arriva la palla buona al minuto 43 per Esposito che di piatto insacca l'1-1. Ma quanta paura poi nel finale, Sassaroli va a tu per tu con Schina che si salva con le buone e con le cattive, per Politi di Salerno va bene così e arriva il triplice fischio. Chieti imbattuto e a meno 4 dalla vetta in attesa dell'organico al completo, bene così. Analizziamo la partita Ronci, Chieti colpito forse nel suo miglior momento perché nella seconda metà del primo tempo stava facendo molto bene con la fantasia di quel tridente offensivo un po' adattato. Poi nel secondo tempo il gol del pareggio è arrivato quando forse non ci credeva più nessuno, lei è stato bravo a inserire il doppio attaccante centrale dalla mischia classica e è arrivato il gol. Io ti dico che il primo tempo abbiamo detto ai ragazzi di non avere fretta, non avere fretta perché si rischiava di subire sempre le loro ripartenze perché sapevo che era una squadra che avrebbe impostato la gara sulle ripartenze e hanno 3-4 ragazzi molto veloci. E quindi ho detto di non forzare mai la giocata, di giocare sul sicuro, anche di tenere la palla nella nostra metà gambo ma di non sbagliare la verticalizzazione, di andare in avanti solo quando c'era la certezza di servire il compagno. E l'abbiamo fatto bene, siamo arrivati secondo me a tirare in porta tante volte, non abbiamo mai preso la specchia della porta con i centrocampisti. A quel punto ho detto evitiamo il giropalla, cerchiamo sempre la palla da manda, andiamo sulla seconda palla. L'ultimo quarto d'ora abbiamo cercato proprio questo e sono contento perché su una situazione del genere siamo stati bravi poi a trovare il pareggio. Il gol del pareggio Baci è arrivato quando forse la sua Iesina dava la sensazione di poter controllare la gara, è d'accordo? D'accordissimo, perché abbiamo preparato la gara per contenere e ripartire in contropiede e penso che abbiamo giocato in questa maniera. I ragazzi hanno interpretato bene le indicazioni e come abbiamo preparato la partita in settimana. Sono molto contento della prestazione, purtroppo sono sfuggiti tre punti che per noi erano pesantissimi, non è la prima volta. Domenica scorsa abbiamo acciuffato noi al novantesimo una partita che dovevamo vincere, la partita prima ci hanno pareggiato due minuti alla fine, quella prima ci hanno vinto al novantaquattresimo. Purtroppo è un momento dove la fortuna non gira proprio alla nostra parte.